nell'episodio precedente stiamo qua a vita allora ragazzi questo gioco si conclude con che ho stiatato il tasto per la corsa il tasto per la corsa ha fatto così il cretino salvata hai capito tutto guarda pensiamo che c'è qualcuno sali che ansia e c'è giù ciccio bello ha la bua fuori te è vero che ti viene più ansia a guardare che ha giocato ecco io te l'ho detto perchè ti vorresti vorresti dire dai ti uccido ecco questo pezzo non so dove andare adesso devi scendere ma poi è nessun punto tu scendi eh togli l'infrarossi siamo fottuti in questo pezzo fagli l'infraro fagli l'infraro togli l'infraro abbassa la telecamera scendi ma aspetta un mattino vuoi girarti nooo vai la destra la destra come l'ho detto ma sono mosche quelle sono mosche sono mosche sono mosche sono mosche nooo non ci studiamo come no c'è di tutto sono i bambini che guardano si ma mica avranno guardarsi va bene ma indovina chi c'è qua sotto no no c'è il cicciomello quindi hashtag scappa vai sotto il letto vai sotto il letto io adesso adesso il rosso non ci senta sbaglio detto ah non farlo perchè sei una brava persona bravo bravo ok ecco si deve andare a destra ma c'è zio zio no a me sembrava che avete detto ah stavo ridendo non correre tutte sciega corri come se non ci fossero domani è chiusa vai a vedere di là è lì sta salendo le scale sbrigarsi lo sento lo sento come se fosse non ti fermare salta corri apri questa foto lo sento giusto giusto salta dai Ezio sinistra ah lì Ezio vai a destra vai a destra vai a destra vai a destra un sorriso bella stampa bello che lui ci vede al buio non lo so ci senti sinistra dai che lo pieghi è giusto non lo so si è giusto no buongiorno non l'ho visto non l'ho visto neanche meno male perché eravamo troppo presi figliaio rosso una volta eravano lì ah un altro eh spoiler per te non ho capito non ho capito ok 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 questo spoiler mamma roma devo assentarmi scusatemi un po' in diretta taglia mamma non tagliare non tagliare e non ancora poi vengo a casa quelle sei poi vado eh questo non lo tagliare ti prego c'è quello che c'è quello che nooo eh c'è quello che gli prude comunque c'è quello che ho detto c'è quello che gli prude non puoi vedere non c'è niente le mani ma non è ricaduto no è quello che gli prude il coso non c'è niente io mi chiudo qui ma come fa a picchiare se non c'è le mani boh comunque gli prude ma vattene via ti aspetta ti prende a testar ti prende no ti prende a testar va via non piace a nessuno a me si ti attiva l'infra rossa ti prude c'è deve essere qualcosa per salire come ti ho detto prima e lì e lì e lì e sali yes mi sa che hai perso la telecamera no e per te per puli no per puli no oddio c'è chiaro ehi si è mosso eeeh 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 madonna che brucia fila perchè allora io vorrei sapere una cosa perchè stava sulla sedia a rotelle ah non è una sedia a rotelle beh come quello di prima stava sulla sedia a rotelle no quello di prima strisciava si hai ragione mi ha fatto no no ditemi che non c'è nessuno nella casa tranquillo non te lo diremo per saltare da una spulgenza salta salta spadermi si ma spadermi fai cagare ma davvero lui è saltato dalla zona dove non c'era l'interazione del tasto no infatti ti salta no davvero è vero si c'era un peccettino lì che non c'è l'interazione tu hai preso il peccettino non è uno spoiler no non voglio farlo adesso falla dai intanto qua non dovrebbero scoprire no doveva prenderci quello da gioco no più avanti più avanti non è uno spoiler potrebbe succedere non è uno spoiler potrebbe succedere no invece destra destra tipo l'ho preso vedi c'è una batteria qua dentro eh vediamo chiara eh c'è un documento witness uh 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 si è mosso ma che sei tu witness è scritto come? fa niente non interessa nessuno chiudi la porta chiudi la porta si ma hai sbagliato di qua eh sono totalmente sbagliato no dietro si è scritto un pulino inactive inactive sbagliato oh ma che palle ci sono delle scale bellissime io non le voglio scrivere le scale no vabbè tu sei conforme con le scale sorri avanti finché ti spezzi cosa? batteria no eh no ma buongiorno ma da dove salta fuori? no 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 ma si e non tornare perchè ti ha visto lo sai eh pensavo potessi la scuola invece c'è un po' solo scuola ma era in coglione? si probabile eh ti aspetta su in realtà quello ah cosa? ma perchè? ma da più che altro il gioco per sempre ma di infarti in generale non me ne ricordo è tornato indietro ah è la il fratello tipo no vai 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 non può seguire qua adesso mi senti tocca liscio 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 salva 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 si 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 come cazzo ho fatto a non cadere lo sa solo lui eh è spy eh sono mia tigra telecamera sono batterie ah ma sono odio eh io passo per i buchi stai caro stai buono stai buono per me si è morso si 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 è morso ma ci sono tre batterie non troppo giusto ma entralo vai vai ah ah vedresti una cosa che si illumina luce una luce naturale cos'è successo? si è finito un femore in gola si è davvero ok non posso passare no e riprendere guarda lo sguardo scivola con noi meno con noi meno bene ah ho l'impressione è una batteria batteria? no è dall'altra parte me la sfondano no beh si tutte le porte chiuse le sfondano le sfondano ti conviene levare le sfondano le sfondano le sfondano una nota non ho fatto niente non ho fatto niente sono buono area d è troppo ampio questa zona ma quando tocca la roma? mai finché non sei morto oh si giusto tuffati tu se non si possa domani abbassati è ora mod world non è come alien isolation che tipo? eeeh non ci ho visto che tipo? c'è il alien ah non posso piazzarli no adesso però non per un po' e questo pezzo è tutto famoso eeeh tipo questo pezzo cazzo ho perso il filo del discorso ah già adesso mi stanno stuprando gli android z wow che ho finito il ah ho mollato giù tutte le armi e sono senza un cazzo mi stuprano wow scusa ma qui non c'erano dei ma stai passando attraverso il mattino raggiungi le foglie ma sono ancora lì si ora corri ci può saltare? si ho 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 destra wow cos'è quello che vuole? è uno è uno eh no sinistra è uno cinquanta e cinquanta come se fosse capito per questo ma non è che devo spostare lui no 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 via l'intero via la telefona ma che stai tipo distruggendo la povera materia è perché non andiamo mai avanti si 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 decisamente mi sa che tipo che ho finito il condotto sulla testa da 20 minuti no via ha finito sinistra sinistra chi lo vuole eh no fessura fessura è una fessura è una fessura è una fessura sì sì quella fessura lì ti condannerà la vita non sai tu non sai chi c'è dietro nessuno 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 sa chi c'è dietro c c ci sono il mister ciccio io carichere la batteria c c c c c animale arco noi siamo qui io anche io seguire la linea gialla ma no ma grazie non tocca non gioco io 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 c'era zio c'era zio no hai fatto male no hai fatto male ciao cazzo quello che non può passare perchè non passi per cazzo perchè non può passarsi di più dai dai ma sai qua il problema siamo in qualche punto legato no qua non ce la fanno eh in due in una delle due non ce la fa nell'altra eh allora c'era l'altra in qua non ce la fa ho preso la parte buona allora il problema è che lui è qua in giro adesso altrimenti è qua tipo dietro l'angolo vuole toccare ragazzi dove corro il condotto già già tagliate stai eh no no non andare per tipo dei film finchè non è da troca gara ma io non so che devo andare adesso dritto devi ritornare dall'altra parte ah ah acid risvegliati acid risveglia il vero te stesso prova la nostra esigenza al mondo esistenza al mondo che cavolo è ne eh ok è un po' razzista questa cosa qua ah ah ahahah 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 come ti senti acid meravigliosamente scommetto vai faccio che più ti aggrada ehi attaccato Joker